Primavera 1944 L'Europa sta bruciando Sappiamo che gli alleati stanno per fare una prova generale dello sbarco in prima materia Da Ataor è il luogo di questa prova, Jürgen E l'avrà presto il caro Walter Abbiamo un agente nel servizio segreto degli alleati Il suo nome in codice esmeralda Da quella missile Potevano dipendere le sorti di tutta la guerra Lui lo sapeva bene Ma lo sapevano bene Ma lo sapevano bene anche loro Max von Sydow Ed Harris Helmut Berger Ors Buchholz Forse stanno solo giocando con me Nome in codice esmeralda Martedì alle 21 Sette gol